1 milione e 200 mila euro nel 2020, 770 mila nell'anno in corso per un totale di 2 milioni di euro, è quanto stanziato dall'Emilia-Romagna per finanziamenti a fondo perduto da destinare a coppie piecentine che hanno fatto richiesta attraverso il bando montagna per acquistare o ristrutturare un'abitazione in uno dei 119 comuni montani della regione. Nel nostro territorio sono quasi 70 gli interventi complessivi che se lo sono giudicato su 129 domande pervenute, 42 lo scorso anno, 26 nel 2021. Età media dando un'occhiata ai dati regionali di poco superiore ai 30 anni, in 9 casi su 10 nuclei con figli, è il profilo delle nuove famiglie che riceveranno circa 30 mila euro per la loro nuova abitazione. Vogliono o acquistare la casa per andarci a vivere per la prima volta in Appennino o acquistarla e ristrutturarla anche se già vivono in Appennino per rimanerci nei prossimi anni. Uscito lo scorso maggio, il bando regionale ha visto arrivare oltre 2300 domande, delle quali poco meno di 700 sono state giudicate idonee. Il boom di richieste è clamoroso, noi ne finanziamo per 20 milioni, sono arrivate richieste per più di 60 milioni di euro, ma questo è positivo perché significa che abbiamo colto giù, abbiamo colto una richiesta che era evidente, è addirittura superiore alle nostre migliori attese, noi abbiamo detto che ognuno dei prossimi anni di questa legislatura metteremo altri 10 milioni di euro all'anno, farò un appello al Governo nazionale che valuti se prendere in considerazione una misura come questa per finanziare le regioni perché credo che prenderebbe soltanto applausi. Il bando prevede per tutti i beneficiari l'obbligo di trasferire la propria dimora abituale nell'alloggio acquistato o ristrutturato entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto di acquisto o dalla data di ultimazione ai lavori, richiedendo contestualmente la residenza nel Comune Montano per almeno cinque anni. Tra le finalità, oltre a quella di rilanciare lo sviluppo di questi territori, anche quello di spingere sul recupero del patrimonio edilizio montano con criteri premianti per gli interventi su edifici di valore storico come le case in sasso, situate all'interno di aree di pregio ambientale oppure dismessi e abbandonati.